Ciao a tutti ragazzi sono i DixMaxx e benvenuti in questo nuovissimo video Siamo tornati qua in un video leggendario ragazzi perché oggi andremo a prendere intanto il regalo giornaliero E poi andremo a prendere anche il regalo delle scuse di protestarci come aveva avuto un piccolo aggiornamento in cui non si è potuto giocare Quindi il ragazzo sta dando un regalo per scusarsi di questo inconveniente Possiamo chiamarlo così Quindi andremo a prendere anche quello qui Quindi è veramente un video leggendario Vi ricordo di lasciare un like, un'iscrizione, una campanella Condividere il video con tutti i vostri amici Seguimi su TikTok e su Discord Quinto, settimo link in descrizione Sesto link in descrizione per entrare in mio server Discord Primo link in descrizione per abbonarvi Secondo link in descrizione per comprarle i miei t-shirt personalizzate EdixMaxx Vedremo chi sarà il quarto bomber della storia a comprarle Terzo link in descrizione per fare una piccola donazione E quarto link in descrizione Seguimi sul sito di Ola Faccio live contemporaneamente anche lì con YouTube Vi ricordo che purtroppo oggi non faremo live Questo video uscirà alle ore 10 del mattino Purtroppo oggi sabato 28 ottobre 2023 Non faremo live Quindi ci pichiamo direttamente domani Sera in live e lo ripete 30 Quindi domani che è domenica Sera in live e lo ripete 30 Purtroppo ragazzi oggi non riesco a fare live Perché la mattina sono occupato Il pomeriggio sono occupato La sera sono occupato Questo video l'ho pre-registrato il giorno prima Quindi venerdì I ragazzi in live tra l'altro ci siano divertiti un botto Quindi venite in live ragazzi sempre A domani sera in live e le ripete 30 E adesso andiamo a prendere il nostro bellissimo regalo Del giocatore sbloccato Molto molto bene Sono contento Poi domani andremo a sbloccare anche quello Certo Allora Molto bene Prendiamo tutti i nostri punti di nuovo evento E andiamo ora Andiamo a prendere il nostro bel regalo Delle scuse di Brawl Stars Allora Poi magari usiamo un po' di corpo Che volevo portarlo al grado 15 Corvo Se riusciamo tra l'altro andate a vedere il video Dove l'ho preso Corvo Se non l'avete ancora visto Mi raccomando Eccolo qua Questo qua È il regalo Mi spiace Tra l'altro mancano 59 minuti Però poi lo perdo Quindi per fortuna che sto facendo questo video Adesso Allora Ci dobbiamo pure prendere Belli questi Gretti Romantici Vingo 50 Molto molto bene Sono contento Andiamo a prendere questi E poi dopo ragazzi Andiamo a prendere anche Il regalo delle scuse Mi spiace Di Brawl Stars Poi andiamo a portare il corpo Ci dobbiamo portare il corpo Almeno Più vicino al grado 15 Magari nel prossimo video Andiamo a portare il grado 15 Insomma Per portare il grado 15 Da dove sono in questo momento Ci vuole un po' di tempo Quanto ci mette a prendere il regalo gratis Per Brawl Stars Mamma mia Raga Ma quanto ci Ragazzi non può ci mette di più A prendere il regalo Brawl Stars Che io A fare una live Cioè ragazzi Io Oh dai Aspita dai Vabbè Eccolo qua Il nostro bell star troppo Mi spiace Di Brawl Stars Che ci regala Per Dirci scusa Di questo inconveniente Che è Che è avvenuto Con Su Brawl Ti capito dai Oh Ragazzi ma quanto Caspita ci mette A A prenderlo Dai Eccolo qua Bello Tra l'altro sarà troppo Leggendario Vediamo un pochettino Cosa troviamo Oh Ragazzi ma quanto Caspita ci mette Ma è troppo Così È troppo È esagerato Dai Gadget Gadget di Corvo Abbiamo usato di Corvo C'è stato un gadget Devo andarci molto meglio In realtà Gadget è un pochettino Però vabbè Almeno è di Corvo Noi dobbiamo utilizzarlo Almeno questo Almeno non devo spendere Mille monete Per averlo Mi spiace Ma qualcosa in più Magari una bella skin Però vabbè Vabbè raga Almeno abbiamo anche Il gadget Adesso andiamo a giocare Aspetta Non so se va a essere Singolo Oppure duo Vabbè se è duo Facciamo una partita in duo Poi dopo metto singolo Tanto ragazzi Non è un problema It is not a problem Allora No single No è duo Vabbè Vabbè Siccome lui c'ha questo Lui c'ha Leon Le prende lui le casse Sapevo ragazzi Che avevo messo duo Perché me lo sentivo Non so perché Avevo visto Ragazzi Con Corvo Volevo giocare I salmina ulti Facendo magari qualche danno Di qua e di là Ok ho pillato pure uno Molto bene Ho colpito ancora Ragazzi ho quasi già la ulti Sono già metà Magari quel byron lì Magari Perfetto Molto bene Colpito un'altra volta Oh no Non l'avevo visto Non l'avevo visto No 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 Si muore Me lo sento Lo sapevo ragazzi Che moriva E vabbè Non l'avevo visto Il suo compagno Vabbè Facciamola a soli Che è meglio Voglio anche provare So che ragazzi Quasi tutti Che non c'è Corvo E non c'è Provato anche Il suo gadget Ma il mio Cioè io Corvo l'ho prima preso Perché avete visto il video È uscito una settimana fa In cui l'ho preso Meno forse E il gadget Lo tratto adesso Quindi ragazzi Lo provo adesso Il gadget Mentre Corvo L'ho già provato Però comunque È un brawler Che uso da poco Comunque da meno Di una settimana Quindi ragazzi Comunque Per me È un nuovo Brawler Da utilizzare Fa ridere Perché ragazzi Io c'ho Brawl Stars Da un botto Di tempo In me c'è qualcuno Qua dentro E Corvo L'ho preso Una settimana fa Cioè Corvo C'è da sempre Su Brawl E io l'ho preso Una settimana fa Ragazzi Io ragazzi Ve lo dico Quando c'è La Brawl Stars Prime Ragazzi Io non trovavo mai Le leggendarie Purtroppo No ragazzi Vado a morire Quindi ragazzi Io ho trovato solamente Cioè io non trovo Le leggendarie Ragazzi Non so perché C'erano dei miei amici Che trovavano Le leggendarie Ogni due secondi E avevo appena iniziato A giocare Io che giocavo Da ormai È un botto di tempo Che mi ricordo All'inizio 10.000 copre Sovra di Stars Erano in un sacco E io ce l'avevo Ma non trovavo Le leggendarie Cioè io non avevo Le leggendarie Quindi Purtroppo è così Però vabbè Adesso ragazzi Stiamo recuperando Più o meno Allora Questo era un po' Ci troveremo Ok Colpito ancora Vuoi cercare Fammi la ultima Però mi sento Un pochettino Incastrato In un panino Con questo qui Sentivo Colpire questo Magari Devo utilizzare I gadget Eh L'ho rallentato Così No no Sono morto Sono morto Eh no Ma quanto cazzo È difficile Cioè all'inizio 15 In un pochettino Ci trovavamo ancora L'iscar soon Adesso invece niente Eh però sì Vabbè Cazzo mi colpiscono in due Cioè ragazzi è impossible No no Allora Volevo essere bravo Attivarlo Allora Sto zitto Io sto zitto Sto qua zitto Allora Io ce l'ho ulti ora Per fortuna Ma ho paura Che questo qui Ho caduto colpito Io vado a ammazzare Questo qui Così almeno Arrivo secondo Dai Almeno arrivo Secondando Questo qui Non Vabbè va bene Vabbè Ho fatto bene Utilizzare l'Udi Contro quell'altro Lì Così lui moriva E io arrivavo secondo Quindi Credo di aver fatto Abbastanza bene Comunque Vabbè ragazzi Direi che con questa Ultima Killetta Tattica Il video finisce Sono comunque contento Abbiamo pure Un vero stato Troppo raro Però vabbè Comunque Niente Ci sta Mere quando ragazzi Entrere nel mio club Vediamo Quando siamo No proprio Uno su trenta Ancora Ok Siamo ancora pieno Sono contento Che mi fa tanto piacere Che Comunque Il video di oggi è finito Vi ricordo di lasciare un like Un'iscrizione Una campanella Seguirmi su TikTok Su Discord Abbiamo pure preso le cose Nel pass Vi ricordo di lasciare un like Un'iscrizione Una campanella Con i video Di tutti i vostri amici Settimo link in descrizione Sesto link in descrizione Per l'enternimo server Discord Primo link in descrizione Per abbonarvi Secondo link in descrizione Per comprarle I miei t-shirt Personalizzate Etics Max Vedremo che sarà Il quarto bomber Della sera Comprarle Terzo link in descrizione Per fare una piccola donazione E quarto link in descrizione Per seguirmi Sul sito Vi ricordo che Faccio live anche lì Contemporaneamente Con YouTube Con questo Con qui Vi ricordo che purtroppo Oggi non faremo live Ragazzi Perché sabato Di solito Non faccio live Perché purtroppo Sempre in pieni La mattina non posso Pomeriggio non posso La sera con non posso Quindi domani Ci chiamo direttamente Domani sera In live Quindi domani Che è il 29 Domenica Non manca No domani è il 29 Sì Domani domenica In live Alle 20 e 30 Quindi a domani Sera in live Alle 20 e 30 A domenica Alle 20 e 30 Quindi a domani E niente A domani sera In live Alle 20 e 30 Io vi voglio bene E condivete il video Spero che vi sia piaciuto Ciao ragazzi